Fumata bianca per la coalizione di centrodestra e liste civiche riunite in conclave questo pomeriggio nella sede dell'Udc a Fano. E' Lucia Tarsi il nome attorno al quale al grido di Roma morte si sono ritrovati attorno ad un tavolo tutti i protagonisti delle scaramucce elettorali alle quali abbiamo assistito sino ad oggi e che hanno portato alle soglie del 2019 senza che si sapesse chi fosse chiamato a fare il terzo competitor contro Seri e Marta Ruggeri. Udc, la tua Fano, Forza Italia, Fano Città Ideale, Progetto Fano, Lega e Fratelli d'Italia, uniti e vincoli, hanno trovato la forza e la coesione per superare ciò che proprio su Lucia Tarsi li aveva finora divisi. Questo è il nostro intento dopo anni bui di questa città con un governo di sinistra guidato dal sindaco Massimo Seri a guida PD che ha portato praticamente tutte le eccellenze che avevamo a Fano verso Pesaro. Oggi vogliamo dare un segnale chiaro a tutte le persone che sono nell'ambito del centrodestra e che siamo riusciti a riunire tutte le anime del centrodestra, dei partiti e delle liste civiche e faremo una proposta credibile per migliorare la città e per portarla agli splendori che aveva in passato. Quali sono stati i punti che vi hanno coalizzato, che vi hanno trovato uniti in un unico pensiero? Ma intanto i punti focalizzanti sono quelli del programma, quindi la sanità, la sicurezza e il degrado del territorio, quindi il decoro urbano che è andato peggiorando, quindi i punti programmatici in primis e poi l'unitarietà di presentare una persona nuova alla politica, ma comunque con esperienza, la persona che ha unito tutte le varie anime sia dei partiti che delle liste civiche. La Tarsi è in questa legislatura consigliera comunale per la lista civica Fano Città Ideale, espressione di un politico di lungo corso come Giancarlo Danna che con la candidatura della Tarsi sposta una pallina pesante nel suo personale pallottoliere. Il mio pensiero è che Fano e ora che abbia un sindaco donna. Siamo riusciti a trovare la sintesi su Lucia Tarsi perché è una persona stimata, alcuni dicono che non è molto conosciuta, ma c'è una ampia coalizione di liste civiche, di centrodestra, nessuno escluso, e quindi credo che questo sia un segnale forte per la città. Uno, candidato donna. Due, tutto il centrodestra unito e allargato. Pensiamo che questa sia una proposta valida. Il tema della sanità in questi anni ha tenuto banco. Lucia, insieme a me e tanti altri, si è battuta su questa strada. Credo che questo sarà uno dei temi principali che vogliamo risolvere una volta per tutti e quindi credo che con la forza del centrodestra unito e con una donna sindaco riusciremo a fare quello che in tanti anni non è stato fatto. Grazie. Grazie.